Ecco, si parla tanto di plastica, di bottiglie di plastica, cucchiai di plastica, forchette di plastica, piatti di plastica, e poi ci sono i mostri di plastica, eccoli qua, di questi nessuno ne parla, guardate che mostri di plastica, tonnellate e tonnellate, di plastica, pensate un po', pensate un po' quanta plastica c'è qui, in agricoltura, e poi la chiamano agricoltura biologica, ecco l'agricoltura biologica, tonnellate e plastica, per i nostri figli, mangeremo la plastica, ok, qui non c'è plastica, c'è solo un po' di plastica sulla strada, eccola qui, le siepi, bottiglie, bottigliette, tutto, è tutta plastica, ok, costiamoci la plastica.